Allora, mentre indigete a questi dettagli frivoli, io vado avanti e chiamo la premiazione, tutti quanti qui noi presenti, casco d'oro, campione mio. Io credo che ci siano delle immagini che ci portano al momento conclusivo di questo nostro incontro di oggi, che è di festa ma anche di ricordo. Grazie a tutti. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. 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 di quanti, voglio soltanto dire che mi sono spezzato ma non mi piego, è una gara dura ma faccio il massimo per vincerla. L'hai già vinto prima. Su questo applauso. Consegniamo il premio. Consegniamo il premio, Michele consegna il premio. Casco d'Oro campione mio, credo che su queste immagini, su queste parole si possa aggiungere degnamente, su questo applauso, questo appuntamento con i caschi d'Oro che aiuterà sia la confusione più bene. Grazie a tutti per averci seguito. A tutti, grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie.